salve siamo a venezia al bistro de venise oggi presentiamo una delle più antiche ricette della cina tradizionale veneziana il cesame de pesce ovvero saor in questo caso di scampi vi presento gli ingredienti pepe in grani cipolla scampi curcuma chiodi di garofano uvetta sultanina farina di riso mandorle tostate olio di semi miele aceto vino bianco e sale cesame de pesce quale tu vuoi ricetta originale antesignana del saor tratta da manoscritto di cuoco anonimo veneziano della fine del trecento recita così toglielo pesce e friggilo toglisse bolle e lessale un poco e taglia le menude o frizzale ben poi togli aceto ed acqua e mando le monde in priega ed uva passa e specie forti e un poco di miele e fa bollire ogni cossa insieme e metti sopra lo pesce il libro per cuoco è conservato nella biblioteca casanatense di roma e nelle 51 paginette riporta 135 ricette della cucina nobiliare del tempo il bistrò da venis possiede il microfilm del manoscritto originale dal quale abbiamo tratto alcune delle piantucche ricette di cucina proto veneziana tra queste l'ambroino vari civiri il mangiare del pomo alcuni pasteri e pastissi le prime versioni dei raffioli e di numerosissimi savori dal savor tartaresco al savor camerino ottimo per finire con il savoro del ambelli